segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te allora lucio caracciolo oggi abbiamo avuto il presidente del consiglio draghi che ha chiamato zielensky ma in serata matteo salvini leader della lega ha annunciato che sta preparando un viaggio insieme al partito di putin russia unita per andare a mosca come messaggero di pace può riuscire ad aprire una porta con il cremlino di putin una porta importante che sia diciamo una porta probabilmente era apriranno non la principale occhio e croce e comunque messaggero di chi esiste un governo italiano che fra l'altro in questa fase si è molto impegnato sul fronte diplomatico poi vedremo con quali risultati ma lo ha fatto non vedo che cosa salvini possa portare a putin fa parte io penso della campagna elettorale che non finisce mai e non penso che putin abbia tempo da perdere onestamente in questa fase marina satanino non si sa satanino non si sa satanino non si sa